Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 7, a ridosso del municipio di Acicastello. All'origine della rogo un aumento di tensione all'interno di uno dei pali della luce dell'Enel adiacente il palazzo comunale, al cui interno, a causa dello sbalzo di tensione, hanno preso fuoco un condizionatore e una macchinetta del caffè. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Acireale e una seconda autobotte inviata dal comando provinciale di Catania. Diverse abitazioni del paese sono rimaste per ore senza corrente elettrica.